Ciao, io sono Cristian, sono un amante del disegno a mano libera e sono presentato a questa scuola, la cui accoglienza è stata molto calorosa e molto professionale. Il corso di grafica è un corso completo, è un corso ben strutturato da molte basi, ti è molto vicino anche nei problemi reali, ti diverti e impari cose sempre più nuove e non soltanto dal punto di vista grafica ma anche lavorativo, ti viene insegnato come presentare un documento a un eventuale cliente, cosa dire al cliente e soprattutto cosa non dire. Io ho la fortuna di lavorare all'interno di un'azienda di Petfood, si occupa di mangimi per cani e gatti, ho avuto la fortuna di occuparmi io dalla parte grafica, quindi io mi sono trovato da un lato al frequentare il corso di grafica che mi è stato molto vicino anche per le problematiche mie e nel contemporaneo sono riuscito a realizzare cataloghi, volantini promozionali, è molto gratificante ricevere complimenti da parte di altri grafici che sono nel settore da più anni, i quali anche questi mi chiedevano se io stessi frequentando, ho frequentato una scuola, la mia risposta è la solita, ho frequentato Aria Domani che è una scuola professionale. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!